Grazie a tutti. Venne a contare storie di pupi e di pupari. E una famiglia, vi voglio parlare, di una famiglia che operava nella città di Palermo. Sette figli, volessi abitare tutti i ciali. Il mio teatro, la mia casa teatro è una nave. Quindi quando sta ferma a Palermo è perché la nave deve essere messa a posto. E poi la nave viaggia. Quindi io sono capitano di una nave che viaggia, viaggia sempre. Anche quando sta ferma viaggia. Io sono Orlando, furioso. Ebbene mio Dio, te lo scongiuro. Dai forza al mio brando perché voglio vendicare il mio amato sposo lugiano. Oh mio Dio, oh povera me in felice, aiuto. Addio, foglieri aperta. Addio, addio. Per quello che mi ricordo. Ie viva, Carlo Magno. Ie viva, viva, Carlo Magno. Terrasini è un'antica piazza di Giacomo Cucicchio. Mio padre veniva sempre qui. Viene un'antica piazza di Giacomo Cucicchio. Cioè, lo sai che facciamo? Cattiamo la tiglia. Canto che è il tuo lucro. La tiglia è già. Mi tuffo. Tirare l'ancolo. Regate quelle fiume. Maravilla. Tira la catena. Tira la catena. Guarda. Foto. Foto. Immo Cucicchio. Avrei stato bravo a mettermi le armi, ma rimani sempre un mio servo. Portiamolo su un palcoscenico. Già vuole vivere. Passa lo tempo, e se che io viaggio, e che sta una tradizione, in viaggio, signore mei. E se come in viaggio, io tocca l'asso e una volta va conto. Viaggio. Grazie a tutti.